verde 0 a 100 in 3 secondi ciao a tutti siamo qui fuori al circuito del saxering per me questo gran premio è un gran premio speciale perché qui festeggio i 200 gp il primo è stato il Mugello 2002 e il 200esimo sarà il saxering 2015 sono contento di correre qui il mio 200esimo gran premio al saxering che è un circuito che mi piace molto negli ultimi due anni abbiamo fatto due voti con il team forward abbiamo fatto un terzo un secondo quindi aspettiamo quest'anno come finirà sono passati già 14 anni quindi sono tantissimi e speriamo che ci saranno ancora altrettanto gran premi da fare arrivare a 300 sarebbe bello intanto godiamoci questo weekend e vediamo di fare il meglio ciao a tutti